buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad una persona di londra sud est di londra che mi fa questa domanda dottore che cosa mi racconta sul potere della mente nello sport sono un nuotatore volevo capire cosa fare per potenziare ed ottenere risultati che fino ad oggi purtroppo non ho mai ottenuto io rispondo a questo signore e rispondo anche a te che mi ascolti che il subconscio detta le regole della tua vita anche nello sport del tuo destino il potere della mente dentro e fuori purtroppo nella cultura occidentale non ce l'ha mai spiegato nessuno e pensiamo che allenandoci tecnicamente nel nuoto nel calcio nella 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 in altri sport come anche jacobs se ti ricordi jacobs l'uomo più veloce all'olimpiadi 100 metri piani tokyo 2020 pensiamo che non bisogna fare nessun lavoro a livello mentale io mi ricordo quando ero un ragazzino fino a 15 16 anni ero un fenomeno a calcio poi mi sono perso e mi ricordo che quando ero felice non avevo problemi non avevo litigato con nessuno non avevo rabbia non pensavo al passato negativo non mi sentivo triste rendevo al top del top ma quando qualche volta avevo nutrivo delle emozioni negative nella mia famiglia con i miei amici con la vita trasmettevo nelle mie gambe nel mio corpo nella mia vita visibile invisibile dubbi incertezze limiti e non rendevo al 100 per cento io mi ricordo una volta una finale di del campionato europeo dove segno vinse il portogallo e segno un certo eder un ragazzo di colore e ringraziò il suo mental coach per come jacobs l'altro giorno ha vinto i 100 metri piani a tokyo 2020 e ringraziato la sua mental coach che cosa voglio dire con questo che molti atleti perché qui stiamo parlando di sport ma è riferibile a tutto e a tutti nella vita hanno le potenzialità tecniche significano i muscoli nervi però i muscoli nervi non si comandano da soli li comanda il tuo pilota automatico il tuo subcosciente ma questo in ogni ambito della vita non è soltanto lo sport il calcio che cosa fare per ottenere il massimo in uno sport come in questo caso il nuoto usare l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo anche partendo da un solo audio mp3 dcs vera e professionale unica al mondo senza neanche fare sessioni online di pronti dcs che peraltro sono sospesa al momento per problemi di tempo ed impegno e meravigliarti del potere dell'attuamento io ti consiglio di scaricarti da qualsiasi parte del mondo in cui risiedi in questo momento in cui abiti un audio mp3 dcs molto potente e naturale senza nessun effetto collaterale secondario perché trattasi solo di parole dcs semplici naturali comprensibili trasparenti però parole dcs create ad arte ad hoc con quasi un secolo di un antico sapere testate su migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo le due grandi artiste dell'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola il professore dottor miglian gilgarai la dottoressa lina brunini i miei maestri i miei mentori i miei associati i miei amici per l'eternità come ad esempio l'audio mp3 dcs dal titolo ego e entusiasmo se tu lo scarichi chi l'ha fatto e chi le ha provate tutto anche il sottoscritto del 2008 esclamerai wow 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 non esiste niente perché l'ipnosi ricordi di prima di essere scienza è arte arte con la maiuscola e funziona 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 non credere a nessuna parola del sottoscritto devi provare e poi capire e giudicare perché le parole diciamo tante ne dicono tante ma vanno create e testate in un modo tale da aprire il potere lo scrigno secreto che sta qua dentro che ti fa raggiungere risultati di poco incredibili in qualsiasi sport ok fammi tutte le domande del caso anche la più banale la più studio non ti preoccupare scrivimi ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi o di ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio saracino e facebook share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare ti può cambiare la vita e seguimi gentilmente sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mia amica mia e alla prossima del dottor claudio saracino alla tua ciao